Il Consiglio regionale e il Piemonte Visual Contest, concorso per raccontare il territorio attraverso gli open data e le mappe collaborative, sono compresi nei sei casi di eccellenza nazionale raccontati a Roma durante il Forum PA. Le esperienze dell'uso sociale delle mappe e della valorizzazione dei dati aperti sono stati al centro della sessione su open data e trasparenza. Le regioni rappresentano uno snodo fondamentale in quella che sarà l'attività di Agile, non solo perché hanno delle competenze, ovviamente tipo quelle della sanità, che non possono che essere fondamentali ad ottenere state, ma perché poi hanno un presidio del territorio. Allora il tema su cui noi possiamo fare forza e sinergia è poter a livello di Agile, quindi centrale, dare delle regole, degli standard eccetera, ma poi non possiamo non avere le regioni come Sponda per poterle calare e per poterle diffondere verso il territorio.